Tagliolini con ragù di pesce. In una pentola mettiamo dell'olio con un spicchio d'aglio. Poi aggiungiamo il pesce persico e i calamari tagliati molto sottili. Togliamo l'aglio, aggiungiamo un bicchiere di vino bianco e facciamo sfumare. Dopodiché aggiungiamo i datterini tagliati. Mescoliamo bene. Aggiungiamo il prezzemolo e sale. Facciamo cuocere per un 15-20 minuti. Dopodiché spegniamo. Ecco il nostro ragù di pesce pronto. Uniamo la pasta e una bella grattata di buccia di limone. Grazie. 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 Grazie.